Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news, cronaca giudiziaria. Fissata per oggi l'udienza di convalida dell'arresto del 47enne che ha ucciso la madre mentre dormiva a Calbenzano. La tragedia è accaduta, lo ricordiamo, nella notte tra giovedì e venerdì. Il 47enne Erreo Confesso ha ammesso le proprie responsabilità. Lui si chiama Manuele Andreini e ha un passato segnato da problemi di carattere psichico. Risolto il caso dei pensionati rimasti senza energia elettrica dopo il passaggio a un altro gestore nel tentativo di risparmiare soldi in bolletta, sui costi in bolletta. Lo annuncia Feder Consumatori. Il caso era stato portato alla luce proprio dalla stessa associazione un paio di settimane fa. Feder Consumatori aveva ricevuto la segnalazione spiegando che si sarebbe mossa in quella che era stata definita una vera e propria truffa da parte dei call center di società fornitrici di energia. Per quanto riguarda lo sport, va detto che l'Arezzo ci ha provato in tutti i modi, ma è stato costretto a dividere la posta sul campo del Giviborgo, sul sintetico del Giviborgo. Primo pareggio stagionale ci sono anche delle ricriminazioni. Lo stesso allenatore indiani ha detto a fine partita che la squadra ha difficoltà a finalizzare per quanto costruisce e questo può essere un handicap notevole anche in previsione dei prossimi impegni di campionato. Si tratta adesso di correggere e di vedere qualcosa per garantire alla squadra maggiore prolificità in fase di attacco. Queste erano le nostre breaking news.